Musica Tutte le sfumature dell'autunno nel nuovo negozio Blue Sand a Lecce, colori caldi insieme all'immancabile nero campeggiano sugli abiti rigorosamente made in Italy del marchio che torna in città grazie all'impegno di un imprenditore calabrese Enzo Manica che punta sul mercato leccese sempre attento allo stile. Il Salento è la zona in Italia che sta avendo una ripresa economica abbastanza importante e l'azienda premeva ad avere un punto di riferimento anche qui nella città di Lecce. I colori sono quelli autunnali e quelli che l'azienda ci sta proponendo in questo momento ma devo dire una cosa che l'azienda propone modelli e colori diversi nel corso della stagione. Ogni 10-15 giorni noi abbiamo un assortimento diverso da quello iniziale per cui è una rotazione continua di modellistica e di colori. Prezzi accessibili per un look elegante che come impone la moda del momento fa l'occhiolino agli anni 90 con il grande ritorno del piede pool. Nel centro di Lecce nel punto vendita di via Cesare Battisti 33 è possibile curare ogni dettaglio dagli accessori al capospalla l'outfit è servito. Grazie a tutti!